Il sindaco di Sant'Angelo Invado Stefano Parri è il padrone di casa di questo ultimo incontro Dialoghi con i territori. Il tartufo protagonista Sant'Angelo Invado a chiudere questo tour della regione Marche in giro per la nostra bellissima regione. Sì, per noi il tartufo è un elemento importantissimo anche nell'economia del paese. Abbiamo la mostra nazionale del tartufo bianco che avrà la 59esima edizione, ma soprattutto è importante. Ringrazio la regione Marche di fare questo evento in conclusione del roadshow che stanno facendo sul PSR perché Sant'Angelo si è sempre da sempre qualificata come sito produttivo, quindi ha una valenza doppia per noi questo incontro qua. Oggi qui a Sant'Angelo Invado presentiamo la misura 8 che è quella che riguarda la forestazione, quindi la manutenzione, lo sviluppo e tutto quello che è il nostro patrimonio boschivo e forestale. Dentro questa misura ci sono cose importanti, alcune misure sono state poco utilizzate in passato mentre rappresentano un'opportunità secondo me anche da sfruttare meglio e soprattutto qui dentro c'è anche la misura che riguarda la forestazione, cioè tutto ciò che riguarda la tartuficoltura, cioè la manutenzione delle foreste e l'utilizzo anche di alberi e anche la piantumazione di nuovi alberi finalizzati alla crescita e alla produzione di tartufo. Qui siamo in un centro che per tanti anni ha avuto un ruolo fondamentale, il più grande e il più importante che c'è di tartuficoltura che fa anche assistenza tecnica, dà le piante che hanno già avuto, che possono diventare già produttive. Però ecco questo è un settore che ha bisogno di un grande aggiornamento e anche di un sostegno da parte delle istituzioni un po' più profilato. Molti imprenditori ci chiedono di cambiare, di semplificare la misura e oggi è una giornata di confronto istituzionale con le imprese che si occupano di tartuficoltura all'interno di questo centro che è della regione e che forse va anche rilanciato. Per questo siamo qui per dare anche un segnale a questo mondo che rappresenta non solo un fatto produttivo molto importante, ma rappresenta anche un'opportunità di valorizzazione di quella offerta turistica che noi vogliamo sviluppare attraverso prodotti e attività come quella della tartuficoltura ma anche della ricerca del tartufo naturale che per alcuni può rappresentare davvero un'esperienza turistica, quella della cerca del tartufo.